Ciao a tutti ragazzi, sono S-Vortex e questa è una partita di League of Legends, mid, con Elias. Ehm... niente, cosa devo dire? Che mi lascerò la telecamera su di me. Non so il perché, forse ora ho capito, l'altra volta avevo una versione di League of Legends, di League Replays, diversa da questa qua. Infatti, se vedete, è diversa. Appunto perché non me l'aveva aggiornata e aveva ancora quella, tipo la prima, e si vedeva malissimo, tipo laggava. Adesso invece dovrebbe essersi fixata. Infatti, se vedete, ora la vita si vede alla prima. Ehm... io spero che si sia... che si sia giustata. Ehm... niente, appunto, sono mid con Elias. Ehm... Ranked, ovviamente. Ehm... niente. Ah, sì, la mia squadra è composta da Garen solo top, V jungler, e la bot lane Miss Fortune Alistar, non mi veniva il nome. Ehm... dall'altra parte c'è Rides mid, eh... Shyvana jungler, Jai solo top, che farà un male incredibile. Ehm... la coppia bot, Soraka, FK e... e Zrial. Io direi che non c'è nient'altro da dire. Non è... non è FK perché... eh... si muove, quindi... sarà stata FK tipo 5 secondi. Ehm... niente, io giocherò abbastanza aggressivamente con il mio ragno. Ehm... fortunatamente, se non sbaglio, se non sto sbagliando partita, visto che pure questa partita, anche con quella di Olaf, eh... era... anche quella di Olaf era vecchia. Quindi mi ricordo poco e niente. Ehm... mi ricordo che, se non sbaglio, appunto, Ehm... il nostro jungler V ci ha dato tanti... mi ha... mi ha dato tanti... tanti blu. E questo ha permesso il mio... il mio... diciamo la mia... le lane domination. No! No, non proprio, perché è stata una bella partita, in effetti, con Rides. Ehm... dovevo stare attento alle mosse che facevo, perché Rides c'ha quello snare che... che dà fastidio, in effetti. Ehm... io cercavo di giocare sul fatto che un ragno, eh... la V, la W, Ehm... che è la prima skill che ho sbloccato, che... come vedete adesso, segue il champion e gli esplode facendogli danno. Ehm... questo, appunto, questo... questo fattore permette l'arrassment, ovvero dare fastidio all'avversario, continuare a dargli delle botte, per fargli calare sempre di più la vita e poi un... per permettere, appunto, la kill finale. Ehm... di solito, almeno, si usa così Elize. Almeno, io la uso così e tante volte, eh... mi ha dato, hm... tante soddisfazioni, questa tattica. Ehm... in effetti, appunto, Elize viene giocata abbastanza aggressivamente, appunto, per il fatto che può abbastanza spammare skill, perché le sue skill non richiedono tanto mana, eh... fortunatamente. A parte, vabbè, ovviamente, come avete visto i primi livelli, che una skill, eh... cioè... spende almeno un quarto... tre quarti di mana. No, tre quarti no, però un quarto sì. Ehm... poi, vabbè, ovviamente dipende tutto dalle masteries. Ehm... niente. Passiamo alla lane top, dove Garen ha permesso il first blood alla persona più sbagliata in LOL, ovvero Gai... ehm... Gai... Ehm... niente. Anche perché viene gancato e probabilmente rimorirà, perché questa cosa... No, non muore, non muore. Fortunatamente Garen è un tank, quindi... ce la fa. Ha fatto una bella cosa lì, l'ha silenziata Shyvana, perché poteva... No, non poteva, perché non è ancora il 6, però... Se l'avesse fatto il 6, eh... gli avrebbe fatto il drago in faccia. Almeno io avrei fatto così. Allora, comunque, cominciate a vedere i danni di Gai's, che non hanno praticamente senso, perché Gai's, eh... ricordiamo, che non avrà mai problemi di mana, anche se in questo momento vedete con... poco mana. Ecco i danni. Ehm... lo vedete con... con... Cioè, no, stavo dicendo, non avrà mai, quasi mai problemi di... problemi di mana, perché Gai's, quando usa la sua ulti, che può spammarla, eh... diventa... No, diventa... cambia... cambia proprio modalità. Ovvero va in... in melee. Ehm... ogni colpo che dà, di basic attack, guadagna tipo tot mana. Eh... questa è per una passiva di una skill, mi sa. Eh... l'ho usato poche volte, Gai's, quindi non sono molto preciso in questa cosa. Ehm... niente, eh... ottimo gank da parte di Visolo, che ancora non ha l'ulti, perché quella là se no era una kill. Ehm... passiamo di nuovo a Eli's, anzi no, passiamo al bot, che vedo che è pushata, sta pushando Miss Fortune, come dovrebbe fare in effetti, visto che è un champion che, eh... comunque fa abbastanza danno da... da lasciare a low health gli altri... gli altri... gli altri champion. Ehm... infatti vedete, appunto, senza problemi, gli dà una botta, Ezreal, che è costretto a tornare indietro, anche se gli ha tolto poco, ovviamente, però... Ehm... c'ha... c'ha anche... diciamo che c'ha anche il vantaggio di aver soraka, cioè... mana infinito e vita infinita, eh... più o meno, quindi... Ehm... eccomi qua ragazzi, di nuovo, ehm... era crashato League Replays, ehm... Niente, siamo di nuovo qui, ehm... stavamo guardando Miss Fortune, ehm... Stavo dicendo, è un buon champion Miss Fortune, ehm... perché può arassare bene. Ehm... i danni arrivano, perché... non solo perché è una di carry, ma... Ehm... appunto la di carry fa... fa dannissimo, come avete visto. Anche perché Miss Fortune è abbastanza buggata, fa danno... Be... bene lo fa, ehm... quindi... Ecco, guardiamo questo gank da parte di Shyvana. Non è al 6, quindi... Ha scarsa probabilità di ucciderla. Infatti non... non riesce. Non riuscirà a uccidere neanche... no, neanche Alistar. Ehm... Niente, non so perché... Qua hanno la ward, ma non se ne sono accorti. Forse l'ha messa adesso... no... Boh... Ha cominciato ad andare indietro troppo tardi, Miss Fortune. Boh, è come se questa ward non funzionasse, non fa vedere... Ah, infatti non fa vedere qua, ecco perché. Sennò si sarebbe girata a V. Comunque vedete io che pusho... Ehm... Rhydes... Ed ecco appunto... Ehm... Shyvana, eh... che mi dà... Il... Il blu. Si bugga la skill? No, ok. Sarà buggata per un attimo. Ehm... Niente, presto, eh... Del... Ci saranno... Farò... Delle partite in live. E non... Così. Ehm... Registrando proprio in live una partita vera e propria. Perché queste comunque sono partite vecchie che avevo nel... Appunto nel... Nella cartella di... Ehm... Di League Replays. Ehm... Quindi... Comunque era... Andavano buttate. Ehm... Piuttosto che buttarle le... Le uso appunto. Tanto non erano delle brut... Delle bruttissime partite. Non faccio uno scorone ma... Comunque è una partita da... Appunto come dice il nome della serie. School of Legend. Cioè bisogna imparare da queste giocate. Magari... Io non so. Faccio 1-1-1-12. Ma... Ma alla fine vinciamo. Perché? Perché ho fatto... Tipo... Ehm... In early game ho fatto il matto. In early game ho fatto il matto e... Magari Reiz ha preso le botte in testa da me. Anche se non è mai... Mai morto tipo. Però comunque... Ehm... Non lo puoi mai sapere. Devi... Devi sempre giocare bene dall'inizio. Ehm... Niente io cerco sempre appunto come ho detto di arrastare il più possibile. Visto che adesso... Eh... Si sono... Non è il primo blu probabilmente che mi da... Ehm... No. Forse è il primo perché non ho minuto. Ehm... Comunque... Non sarà almeno il primo blu... Ehm... Che mi darà... Shivan... Ehm... Vi... Scusate. Ehm... Boh... Vediamo. Vediamo come va. Perché sinceramente mi ricordo di non aver fatto... Ehm... Insomma una partita ranked. Le ranked... Sono praticamente sempre così. Io tento sempre come vedete di... Di lanciare... Questo... Uh... Qua si me lo ricordo. Ho fatto una bella giocata. Qua... Anch'io ho fatto una bella giocata. Visto che mi sono reso conto in tempo. Che... Che mi avrebbe fatto il drago in faccia. Qua... Praticamente... E probabilmente sarei morto se non avessi schivato quel drago. Perché... Il drago tipo stunna un... Un secondo. Ma proprio pochissimo. Però... Avrebbe dato l'opportunità a Ryze di... Di spararmi tipo... Scusate. Di avere... Di... Di... Avrebbe dato la possibilità a Ryze di spararmi tipo 40 skill al secondo. E... Praticamente secondo me sarei morto. Ehm... Che... Che item è questo? Spirit stone. Ah è uno di quei nuovi item... Ehm... Tipo... Ehm... Come si chiama? Non proprio per il jungler ma per il support tipo una cosa del genere. Ehm... Comunque la mia build di solito negli AP mid... Di solito eh. Poi dipende da ovviamente... Chi sto giocando ma di solito. Ehm... Inizio con il rely... Con... Road of Ages... Ehm... Subito dopo il cappello. E poi varianti che vanno dalla zonia a... Ehm... Non so... Ehm... Il death fire grasp... Piuttosto che... Non lo so. Adesso non mi viene in mente. Ehm... Che gancherà da lì... Shivana visto che il suo... Il suo rosso... È lì. Quindi io... L'ho piazzata lì la ward perché sarà... Più probabilmente da quelle parti. Cioè il maggior... Il maggior... Il maggior numero di volte sarà... In quelle parti appunto. Quindi preferisco piazzarla lì piuttosto che... Verso il blu. Ehm... Qui è comunque la lane è sempre... Io che pusho... E lui che ci prende le botte. Ehm... Come vedete... Non ho notato adesso. Ehm... Invece che prendere tipo prima... Ehm... Come si chiama? Come si chiama l'item? Ah... Ho sbagliato. Non si può più. Vabbè. Ehm... L'item... L'item... Del rely. Ehm... Quello giallo. Non mi viene più in mente. Però... Ehm... Invece di prendere quello. Ho preso... Ehm... La... Giants belt. Perché appunto mi serviva vita. Perché... Questo qua fa danno. E se voglio ucciderlo. Devo prenderci sopra... Devo... Devo tankarmi tutti i suoi danni. Ehm... Se non... Se non... Se non potessi. Ehm... Morirei. Infatti adesso... È servita tantissimo quella ward. Perché... Comunque mi permette di fare danno. Ehm... E di... E di mandarla da dove è tornata. Da dove è venuta. Ehm... Qui V decide di fare... Non so... Un gank ma... Sinceramente l'ha fatto malissimo. Perché... L'ha doveva fare l'ulti. Cioè io avrei fatto l'ulti. Secondo me se l'avesse fatta. Ehm... Rise sarebbe morto. Perché la sua ulti tipo... Ehm... Knock... Knock up... Non mi ricordo come si dice. Comunque tipo... Knock up... Knock back... Di tutto fa. Ehm... Secondo me sarebbe morto. Comunque vabbè. Non è quello il problema. Sinceramente. Il problema è cercare di gankare più volte il loro... Il nostro top. Ehm... Cioè a favore... Dico a favore del nostro top. Perché come vedete è perennemente pushato da Jice. Perché giustamente... Ehm... Non so se lo... Ve l'ho detto. Non mi ricordo più. Ma... Ehm... Garen ha insta-lockato in una ranked. Cioè... Ciò significa che... Ehm... È entrato nella partita. Qua... Ehm... Notare che mi dà il secondo blu. Come fa l'altro. Come vedete qua. Ehm... Io fortunatamente mi posso... Me lo posso solare. Quindi ci metto... Ehm... Meno tempo di loro. Perché... Shyvana... Gli ha fatto... Dall'altra parte Shyvana ha dovuto fare i danni. E... E poi è arrivato Raiz a fare gli ultimi... Tipo... 300 HP. Ehm... Niente. Infatti Elias viene giocata... Non da tanti, però dico... Da un po' di persone jungler. Perché appunto ha questa... A questo bonus, diciamo... Dell'ulti... Che le permette di avere il doppio delle skill di champion normali. Come appunto Raiz. O... Piuttosto che Shyvana. Che sta rubando il blu a V. Eh... Il rosso a V. Ehm... Se ne rende conto non so come. Non so come se ne rende conto, ma... Fa niente. Il blu... Il rosso gliel'hanno rubato. Qua tipo... Sarà mega incazzata, ma... Cioè... Boh, vabbè. Ehm... Qua appunto, come vedete, io continuo a ribadirlo. Continuo ad arrasare, perché è quello che deve fare... Sì, Shyvana. E Lice. E Lice... Davvero un champion forte. Soprattutto si fidda in una maniera... Semplice. Cioè... È facile far fiddare... E fiddare appunto Lice. Ehm... Cioè, se lo... Io dico... Intendo... Come lo gioco io. Come la gioco io. È abbastanza semplice fiddare Lice. Mi rendo conto che stanno facendo il drago. Cerco di fare due danni. Ce la faremo, perché... Ovviamente Lice. Tipo, ci impiego... Sei secondi. Infatti. È partito quando ho messo l'ulti. Ehm... Niente. Ehm... Continuo a farmare, ecco. Cercate di farmare... Io lo dico, ovviamente... Ehm... Lo sapete, se giocate a LOL. Cercate sempre di farmare il più possibile. Anche se non... Non so. Se non fate i last hit. Ehm... Cioè, sarebbe meglio... Sarebbe quello che dovrebbe... Cioè, quello che dovreste fare sarebbe... Fare i last hit. Ma... Magari... Tipo io. Io non sono bravo per niente a fare i last hit. Ma... Ehm... Cerco di comunque... Pushare... Più che posso. Il... Ehm... Ehm... Ovviamente... Raid... Va a gancare bot. 4 contro 2. Non può far niente... Non può far niente... Ehm... Ehm... Il bot. Perché... Comunque... Forse riesco... Riesco... Forse riesco a rompere la torre. Invece no. Perché sapevo... Uuuuh... Questa la vedo male. Stunno la persona giusta. Tanto lei non mi fa danno. Infatti io dico... Vai dietro che è meglio. Ehm... Niente. Fortunatamente... I miei compagni mi hanno pingato in tempo. Perché io quando distruggo le torri... Non mi rendo conto... Ehm... Del... Che... Che gli altri appunto potrebbero arrivare qua. Niente. Non... La... La top comunque è sempre pushato. Come vedete. Ehm... Non so... Perché... Ha deciso di prendere Garen per forza. Ehm... Pure... Pur sapendo... Perché nella ranked si sa... Pur sapendo di avere... Ehm... Ehm... Di avere Garen... E di avere... Scusate... Di avere Gaius contro. Visto che Gaius è un... Buon... Buon champion. Cioè... Direi... Direi OP. Che... Qua ho fatto una cosa bruttissima. Perché poteva essere morta... Quella lì. Shyvana... Ehm... Ho sbagliato. Ho mancato completamente... Con lo stun Shyvana. Anche perché... No, probabilmente non sarebbe morta perché... Come vedete non avevo... Come vedevate... Non avevo mana. E senza mana l'Aize non può far molto. Ora mi sono chiuso il Rely. Ovviamente come vedete. Ehm... Me lo faccio tante volte perché... Io preferisco in qualsiasi champion. A parte alcuni che sono squishy di natura. Ehm... Scusate. Ehm... Preferisco... Ehm... Averlo... Ehm... Abbastanza tanki. Il... Ehm... Abbastanza tank. Parlando in italiano. Ma neanche tanto. Ehm... Il champion in generale. Perché... Mi piace andare addosso alla gente. E vedere che mi fanno poco danno. Comunque non muoio. E questo è un punto a mio favore. Comunque perché si riescono a fare più kill. Come vedete non ne sto facendo tante in questo momento. Anzi. Penso che il mio risultato sia... Ehm... Zero se non sbaglio. Non mi vedo. Sì. Zero zero zero. 143 minion. Contro i suoi 116. Come ho detto. Visto che non riesco a fare kill. Perché lui probabilmente... Ehm... Se mi attacca mi uccide. Ehm... Non riesco a fare kill. Quindi punto sui minion. E sono... Ehm... Trenta... Vabbè... Vabbè... 28 minion. In più del... Di Raiz. Ehm... Questo è veramente un punto a favore di chi non riesce a far kill. Io qui... Ennesimo blu che... Che mi danno. Io qua... Non so perché ho fatto questa cosa. Probabilmente non... Invece muoio. Muoio... Non mi ricordo... Non ho capito perché. Probabilmente stavo laggando. Perché una cosa del genere non l'avrei mai fatta. Ehm... Sì. Probabilmente laggavo. Ovviamente quello non muore. Perché... Giustamente anche la fortuna mia. Ehm... Infinita. Garen è là. Che pusha inutilmente. Perché alla fine... È arrivata già la seconda torre. Invece che aiutare mid. Per esempio. Che la torre è già caduta. È già... È già caduta perché... Dai due botte... Ed è caduta. Invece... Abbiamo fatto un team fight. Di merda. Per colpa mia. Ma perché non... Probabilmente laggavo. Ripeto. Non... Non l'ho fatta manco apposta. Perché una cosa del genere è veramente da stupidi. Ecco. Io intendevo questo cappello. Ehm... No il... Ecco. Io prima ho detto spellvamp. Non era lo spellvamp. Ma era il cooldown reduction. Che serve moltissimo. Attenzione. Piccolo tip. Ehm... Buildatevela. E lies. Ehm... Cooldown reduction. HP. E ovviamente ability power. Come... Deathfire Grasp. Ehm... No il... 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 Il cappello. Ecco. Non mi veniva il nome. Qua... Ehm... Anche Deathfire Grasp. Ehm... Occhio. Perché fa danno. Ehm... A P. Ovviamente A P. Ehm... Molto cooldown reduction. Anche se è stata nerfata come... Come skill... Come... Item. Ehm... Ne ho dodgiate tipo 142. Però questa... Vabbè... Eh... Jice era abbastanza bravo. Quindi... Ehm... Gli hanno potuto dodgiare una. Anche l'altra. Ehm... Qua è tutto un dodge con Jice. Solo che se ti prende ti toglie metà vita. Come avete... Come avete visto. Ehm... Niente... Sono avanti esattamente di... Ehm... Stavo guardando il farm ma... Non sono tanto avanti di farm. Cioè... Piuttosto di kill. Porca miseria. Sono avanti di 6 kill. Ehm... Quello purtroppo... Appunto influenza pure il farm. Se vedete... Ecco. 7 kill. Cioè mica... Qua... Vado in ragno mod. Perché so... Che mi avrebbero attaccato in 102. Purtroppo qua mi si fa lo stesso. Perché non... Non ci posso far niente. Non ci posso far veramente niente. E il mio risultato ora è 0-2-1. Purtroppo. Garen se lo fa. Non può non farselo. Ehm... Ehm... Non direi che è un teamfight perso ma... Sì. In teoria sì. Qua ora in due dovrebbero... Andare sul più squishy. Dovrebbero andare sul più squishy. Non ho capito chi ha flashato là. Se Soraka tipo... Ecco. Questa è una bella ulti solo che... Garen non ci va. Dovrebbe fare l'ulti lì e la uccideva Soraka. Niente. È stato slowato in ogni modo e morirà probabilmente. E infatti è morto. Ehm... Anzi. Rivediamo come è morto. Perché non... Non ho visto. Ehm... È morto con tipo... 14 ignite. Ehm... Dove sono io? Che non mi muovo? Ah sì perché... Allora in questa partita... Ehm... Probabilmente come nell'altra... Offenderò tantissimo Garen perché... È stato di un troll pick incredibile. Noi questa partita la vinceremo. Lo dico subito ma non... Eh... Tipo non per merito mio. Questa partita la vinceremo... Mh... Per... Non mi ricordo perché. Tipo gioco di squadra. Abbiamo fatto un bel gioco di squadra. Fortunatamente. Almeno quello. Perché ad un certo punto Garen ha capito che da solo non va da nessuna parte. Ehm... Probabilmente se mi ricordo bene... Deciderà di star con noi e a quel punto si riuscirà a far qualcosa insieme in effetti. Ma che è così che dovrebbe andare con qualsiasi champion. Non solo con Garen che non è capace di usarlo per esempio. Secondo me era first time. Cioè era la prima volta che lo usava. Secondo me. Qua... Vanno tutti i bot. Io non mi ricordo se... Io probabilmente ero indeciso se andare bot con loro. E fare il drago. Se stanno facendo il drago. Vediamo subito. Sì. Ehm... Ce lo facciamo di nuovo. Io li vado a... A eventualmente chiudere. Perché non penso si... Puscino così tanto. Invece sì. Invece sì. Invece no. Appunto. Ecco. Mi ricordavo bene. Non pushano... Non ci spingono sotto torre. Anche se mi piazzano una ward sulle città. Caviglie. Ehm... Però. Ehm... Niente. Forse... Ecco. Un'altra cosa che volevo dirvi. Forse è meglio... Ehm... Se... Se la partita appunto è in live. Perché... Non... Non lo so. A me mi mette... Mi mette ansia a giocare in live. Ma... Ehm... Se gioco tipo... Se commento una partita così. Cioè... In effetti è un po' noioso secondo me. Sarebbe meglio... Ehm... Farla in live. Appunto perché è meno noioso. E comunque sono più concentrato. Potrei anche magari parlare di diverse cose. Ehm... Niente. Sì... Probabilmente... Più avanti... Comincerò a farle in live. Ecco. Un'altra cosa. Sto provando a fare... Ehm... Se ogni tanto controllate sul canale di Twitch TV... Ehm... Twitch TV... Slash SGaming. Ehm... SGaming 2K. Ehm... Se guardate... Ehm... Ho provato a fare due o tre streaming. Ehm... Ho streamato Tera. Ehm... Perché? Perché? Perché volevo provarle. Non è che c'è un perché. Ehm... Volevo provare appunto... Live. Se andava o non andava. Ehm... Va. Purtroppo io non ho una connessione della Madonna. Faccio quel che posso. Ehm... Cioè potrei... Dovrei... Potrei e dovrei streamare a 480p. Ehm... Non è il massimo ma non fa neanche schifo. Ehm... L'unico fatto è che non posso streamare giochi online. Perché non mi rimane connessione. Cioè tutta la connessione che ho va allo streaming. Ehm... Ve lo spiego in parole povere. Proprio come se lo dovessi spiegare a un bambino. Perché magari non lo sapete. Ehm... Quello che voglio dire io è... Ehm... Non posso streamare League of Legends purtroppo. Se non l'avrei già fatto. Ehm... Però... Appunto non lo posso streamare. Perché se no... Ehm... Pingherei tipo 9 milioni. E non è il caso. Ecco. Già è abbastanza impegnativo come gioco. E se fai le stupidate ti si inculano a parole. O... Comunque cominciano a flamare. Trollano eccetera. Ehm... Meglio evitare ste cose. E giocar bene in live. Magari. Ehm... Non so. Boh. Ehm... Così. Oppure in live. Ehm... Come si chiamava. Ehm... Invece che la... Che è la Blasting Wound. Qua purtroppo. Vi si butta. Si butta. Di faccia e di naso. Dentro tutto l'enemy team. Io non ho capito il perché. Sinceramente. Infatti io. Come avete visto. Sono stato fermo. A guardarla morire. Ehm... Perché... Non... Non c'ha... Non aveva senso questa azione. Ehm... Probabilmente. Se non mi ricordo male. Perdiamo la torre. Non mi viene uno stun. Oggi. Io cerco di fare più danni possibili. Ma... Mi allontano immediatamente. Perché... Appunto. Vedete i danni che arrivano. Ehm... Non ci possiamo fare niente. Finché ci buttiamo in quel modo. Ehm... Garen è sopravvissuto tipo con un... Pelo di HP. Uuuuh. Qua fa male. Ehm... Niente. Dobbiamo solo aspettare il momento giusto. E prenderli uno per uno. Probabilmente. Perché... Se continuano a giocare così. Ehm... Perderemo. Ed è stato il mio pensiero. In effetti. Fino ad un certo punto. Poi mi sono reso conto. E ho ragionato su questo pensiero. E in effetti. Si è riusciti. Ehm... Però è stata abbastanza dura. Come partita. Cioè... Siamo sotto di 10 kill al trentesimo. Ehm... Praticamente impossibile vincerla. Soprattutto con un Eli. Smead 0-2-1. Mi ha... Ehm... Non è che mi ha aperto il culo. Perché io gli ho aperto al culo a lui. Infatti... È dovuto andare a gancare... Dalle altre parti per far kill. Perché... Non ne ha fatte. Ehm... Non ne ha fatte. Ne ha fatte. Ma ne ha fatte... Non nella mia lane. Cioè... È colpa degli altri in teoria. Se... Se ha fatto kill. Ehm... Allora cosa sto facendo? Ah! Esatto! La Rodovegis. Come ho detto. Ehm... Prima però ho fatto... Il Morello Nomicon. Non sapevo che si chiamasse così. No. Io volevo sapere questo. Ehm... Ehm... 70... 75. Ability Power. 12 mana regen. E 20 cooldown reduction. Poi... C'è una cosa di healing che non ho letto. Trenami Champion. No, non ho capito. Però vabbè. Qua, se vedete bene, io... Tento di fare il maggior numero... Il maggior danno. Ehm... Bella... Bella, non direi tanto. Ulti. Ehm... E probabilmente questo Baron è stata la decisione più azzeccata della partita. Perché ora li pushiamo. Loro muoiono. Quest'ultima è piaciuta tantissimo. Ehm... Alistar continua a pushare. Noi vogliamo le kill. E probabilmente non muore per una sfortuna incredibile. Ehm... Però ovviamente il Trollpick Garen decide di far la sua. Pure in questo caso. Non penso riesca a morire. Infatti non muore. Perfetto. Una mia kill. Dove... Non poteva mancare. Decido di tornare indietro giustamente anche se secondo me se la poteva fare, eh. Diciamo un po' la verità. V è abbastanza dannosa. Ehm... Qua decido di togliermi i ragni perché sennò me li avrebbe targettati e non avrei potuto tirar giù questa torre. Guardate la vita della torre. Ta 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 ta. Calata. Subito. Questo è grazie ai ragnetti. Ecco perché... Ecco perché bisogna maxare l'ulti. Perché l'ulti ti dà tipo... Più danno ai ragni e sempre un ragno in più ogni volta che la maxi e torni in base. Ehm... Quando... All'inizio ne hai solo due e alla fine penso che ne puoi avere cinque tipo. Se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi. Qua facciamo di nuovo il drago. Ehm... Ehm... E' veramente stata una bella giocata. Il primo teamfight vinto della partita diciamo. Ed è stato il più bello secondo me perché eravamo appunto in una situazione di... Di... Non tanto di... Si di stallo ma però da parte nostra. Cioè... Non riuscivamo a sbloccare quelle kill che ci servivano per... Per... Per riprenderci da questa... Da questo momento difficile del team... Ehm... Del team e soprattutto Garen che si buttava in qualsiasi occasione come ha fatto pure in questo teamfight. Ehm... Sono... Voi pensate eh vabbè cazzi sui se fa un brutto risultato. No. No perché sono 300 gold ogni kill. 300 per 5 fatto un po' voi il calcolo. Ehm... Cioè sono 15.000 gold. Ora non sono andati solo a uno. Ehm... Però... Ma che cazzo dico 15.000 gold? 1.500. Ehm... Cioè sono andati... Sono andati solo a uno. Ehm... Non sono... Appunto non sono andati solo a uno però... Anche comunque divisi... Sono... Cioè sono esattamente 300 gold a testa. Cioè non sono niente eh. Anzi manco a testa. Forse... Non sono andati proprio a tutti. Ehm... Qualche kill l'ha fatta solo uno. Tipo... La maggior parte delle 5 kill. Tipo 5 kill... 3 su 5 kill le ha fatte Gaice. Se si vedono i risultati. Ehm... Ovvero Gai sfiddato. Fa malissimo. Eccetera eccetera. La nostra Miss Fortune ho visto un crit di 1.000 e 1.000. Ehm... Va bene ovviamente. Però... Insomma calmi un secondo. Cioè... Meglio. 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 Infatti se vedete la build di Miss Fortune va tutto ok. Ehm... La build base del... Della di carry. No io volevo meh. Ok. Ehm... La di carry infatti. Vabbè io vi parlo come se foste down in effetti. Ma... Se vedete sto video significa che conoscete League of Legends. Ma io ve lo dico lo stesso. Ehm... Che la di carry deve far danno. Deve per forza far danno. E... Ehm... Tante volte la di carry risolve le partite. Da solo anche. Non dico che... Cioè questo gioco è... Soprattutto un gioco di squadra ma... Se una persona è veramente brava si vede. Ehm... Come avete visto all'inizio. Non vorrei vantarmi. Anche se in questa partita ho fatto schifo. Perché capita a qualsiasi summoner. Ehm... A qualsiasi player di fare una partita schifosa. Ho fatto schifo in questa partita. Ma... Abbiamo vinto. Stavo dicendo comunque che all'inizio. In quello screen dei giocatori che ci sono. Ehm... Infatti Miss Fortune si vede che... Perché se lo merita. Non c'è proprio niente da fare. Qua... Distruggo... Me la mangio la torre. Ehm... Ehm... Elyse è una... E' una... E' una pusciatrice. Elyse è veramente cattiva. Contro torri e... E champion ovviamente che hanno tipo due di vita. Perché ricordiamo che una... No. Due delle sue skill fanno danno in base al... Al max HP tipo. E visto che ci sono pure le masteries che danno tipo bonus Bonus danno ai champion che hanno meno del 40% di vita Cioè fa malissimo Ora le masteries conteranno anche poco Però sommandole già all'effetto che fanno le skill Cioè sono veramente danni che arrivano Io qua cerco di prendermelo Non so se me lo lasciano Sì me lo lasciano Giustamente perché serve a me Non serve a loro Non ho fatto caso al fatto che siamo tutti a D Tutti Sono solo io a P Ed è molto sbagliato questo Di solito si cerca di fare metà e metà Perché il danno deve essere per forza diviso Perché se no uno si builda contro il counter a D Attenzione là che ci stanno facendo un big agguato Decidono di venirci dietro Ma io mi focus sulla torre anche se fossi morto non me ne sarebbe fregato niente perché Quello che mi interessava in quel momento è fare la torre Anche se in questo momento Eh volevo farmela Aveva tipo due di vita Niente Se la fanno sì però io muoio 1-3 è un risultato proprio di merda Non mi ricordo di aver fatto una partita così Non mi ricordavo di aver fatto una partita così schifosa Però oh non capita sempre di fare il matto Ehm Niente questa partita è vinta a culo tra l'altro Appunto come vi ho detto Perché siamo riusciti a pushare bene nel momento giusto E come vedete questo gioco è strano perché abbiamo vinto solo un team fight Anzi questo è stato semi perso diciamo perché In effetti E non l'abbiamo giocata bene Però Con Con la tenacia E La bravura appunto dei nostri player Alcuni Ehm Tranne me perché ho fatto veramente schifo Ripeto in questa partita Non scrivete Fai schifo E' vero Cioè In questa partita ho fatto davvero schifo Ehm E forse è per quello che mi sento di dire che In live magari potrei far meglio Ehm Mi sento di dire anche che la partita è praticamente finita Perché in questo momento Ehm Decidiamo di fare il Baron Ehm Il Baron Nashor Ehm Penso che O surrendano Sì probabilmente surrendano Perché in venti Io non penso che in un minuto riusciamo Riusciamo a pushare così tanto Sì forse surrendano perché Sì dopo Allora Probabilmente Surrendano dopo questo teamfight Sì io riesco tipo a prendermi Questa kill Volevo prendermi anche lui Ma Ehm Non ce l'ho fatta Correva troppo Io ho fatto un risultato di merda 2-3-3 Ehm Sfiga anche negli assist Ehm Sono stato sempre E comunque più di Ehm Ehm Come si chiama Di rise Di farm Ovviamente Perché Ehm E l'ice si gioca per forza Così Ehm Loro surrendano Probabilmente Però ancora no Comunque sì Perché Arriverà il surrender Esattamente Adesso No Ah ma allora non dura 40 minuti Perché c'era scritto 40 minuti Vabbè comunque sì Cioè 40 minuti Ehm Il mio risultato è un 3-3 Recuperato alla fine Fortunatamente Ehm Perché sennò era davvero Un risultato pessimo Per una partita vinta In un modo bellissimo Ehm Questa è la dimostrazione Di non mollare mai Non 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 focussatevi Sul fatto che state perdendo Perché se guardate Incredibilmente Abbiamo 10k 10k In più Di farm Rispetto a loro Loro hanno 2 kill In più Noi ok abbiamo fatto 11 torri Tutti i draghi E due volte il baron Però abbiamo 2 kill in meno Ehm Un botto di torri in più Però vabbè Cioè ovviamente I calcoli sono giusti Però In League of Legends Non si sa mai Voi dovete sempre Arrivare fino alla fine Della partita Almeno questo è un consiglio Che vi do Spero di fare live La prossima volta Ciao a tutti Da S Vortex Ciao a tutti Ciao a tutti